Il Comune di Agrigento, grazie all'anticipazione dell'altra tranche del finanziamento di 4.973.237 euro da parte della Cassa Depositi e Prestiti, potrà effettuare entro l'anno pagamenti a imprese, enti e ditte private che ancora hanno crediti nei confronti del Comune. Come si ricorderà, l'amministrazione comunale aveva ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti un finanziamento complessivo di 9.946.474 euro e l'erogazione di una prima anticipazione di 4.900.000 euro che era stata utilizzata negli scorsi mesi per i pagamenti dovuti e riferiti all'anno 2012 di fornitori vari di imprese e cooperative. Con questo secondo finanziamento dei rimanenti 4.900.000 euro, il Comune pagherà anche i costi relativi ai maggiori oneri delle espropriazioni, quelli per i consumi di gas, energia elettrica ed acqua relative agli anni pregressi. Il Sindaco Marco Zambuto ribadisce che l'impegno dell'amministrazione comunale per ottenere le anticipazioni delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti ha avuto successo ed oggi si possono immettere nell'economia del nostro territorio somme che daranno finalmente ristoro a diverse imprese che hanno crediti con il Comune e soprattutto si può ridare ossigeno alla nostra asfittica economia. Con il pagamento dei crediti entro quest'anno, continua Zambuto, si incomincerà a mettere in moto quel processo economico che consentirà a tanti lavoratori di riprendere fiato con ricadute positive sull'occupazione e sul reddito complessivo delle famiglie.